Dopo l'addio di Matrecano, la Paganese non si è persa d'animo e ha trovato subito il sostituto per la panchina. La scelta è caduta su Mr. Favo, che ha sostenuto già il primo allenamento mattutino, ma sarà presentato mercoledì alla stampa. La sua avventura da tecnico comincia con la primavera dell'Ascoli, per poi vivere una breve parentesi sulla panchina del Giulianova. Nel 2008 passa la Viterbese e ci resta due anni vincendo un playoff di Serie D. La carriera è andata avanti passando dall'Atletico Trivento, col quale ottiene la salvezza, all'Ancuna, dove viene esonerato a novembre per poi essere richiamato l'anno successivo con tanto di playoff centrati. Passa anche per Macerate e Taranto, con l'esonero a gennaio del 2015. Lo scorso anno è subentrato in corsa sulla panchina della Vastese. Ora è arrivata la grande occasione con la Paganese. Nuovo rinforzo per la casertana che ha chiuso l'accordo con Francesco De Rose, centrocampista classe 87, nelle ultime due stagioni è stato tra i protagonisti del Matera con ben 60 presenze, scondite da tre gol. Cosentino di nascita, proprio con i Lupi, ha iniziato la sua carriera. Cinque stagioni con il Cosenza, di cui due in Serie D e tre in Lega Pro. Nel novembre del 2011 il salto in Serie B con il passaggio alla Regina e 53 gettoni collezionati tra i cadetti. L'esperienza con Iamaranto è intervallata dalla parentesi con il Lecce in Lega Pro nella stagione 2012-2013. Un tassello importante che testimonia le ambizioni della società Rosso-Blu. Mancano due giorni alla fine del calciomercato ed in casa Juve-Stabbia ci sono diverse trattative in corso, tutte dedicate ai giocatori in uscita e alle conferme. Ha salutato Tommaso Cancellotti, il terzino classe 92, infatti, ha firmato col Brescia e approderà in Serie B. Saluta anche San Domenico che va al Siracusa. Nelle ultime ore pare si stia lavorando alla cessione di Atanasov per il quale c'è il forte interesse del Foggia. A meno di clamorosi colpi di scena, invece, sono destinati a rimanere in giallo-blu, almeno fino al mercato di riparazione sia Mastalli che Lisi. In uscita si cerca una sistemazione anche per Zibert.